Ben ritrovati a questo orario anche, se vogliamo, abbastanza inusuale, perché solitamente a quest'ora non escono video, ma la conferenza stampa è stata programmata a quest'ora e quindi dobbiamo fare di necessità virtù. Vi dico subito due cose. La prima è che non avremo probabilmente a disposizione tutta l'analisi della conferenza stampa, perché come in ogni partita di Champions, l'allenatore parla insieme al calciatore. Io ero collegato a Juventus TV e su Juventus TV le domande a Cambiaso, quindi il nostro calciatore per questa conferenza stampa a Cambiaso, sono iniziate non dalla prima, sono state tagliate alcune, non sono stato in grado di reperire il video completo. Vi chiedo scusa, ma questo è un problema tecnico non mio, lo facciamo presente al sito della Juventus, speriamo di poter migliorare in futuro. Non so se da qualche altra parte è stata trasmessa la conferenza integrale, perché ovviamente io le seguo da lì e quindi non ho avuto modo di completare il tutto. In seconda battuta è stata una buona conferenza stampa, a me è piaciuta tanto perché si è parlata anche tanto di tattica, finalmente. Dopo che Tiago Motta aveva sgridato i giornalisti nella primissima battuta nella conferenza stampa pre-Juventus-Como, ho notato questa apertura da parte dei giornalisti nell'iniziare ad andare un po' più nello specifico. E dato che a me queste cose fanno sempre tanto piacere, sono contento. Allo stesso tempo ho notato che Tiago Motta si è anche un po' più aperto dal punto di vista della battuta, della simpatia, dell'aver preso appunto in simpatia magari qualche giornalista e quindi costruire delle conversazioni che secondo me sono state anche interessanti e sono uscite un po' dallo schema bloccato del ti faccio la domanda, dammi la risposta. Quindi è una conferenza stampa che mi è piaciuta, ho notato veramente tanta serenità nella Juventus e spero che questa serenità non sia una sorta di bene, posso staccare la spina perché stiamo andando bene, stiamo facendo punti. No, cerchiamo di rimanere su quel binario perché domani è una partita molto complicata ma soprattutto molto importante. Cambiaso dice, anzi, a Cambiaso chiedono e poi lui risponderà, come state fisicamente? E Cambiaso dice, bene, giocare è l'allenamento migliore, abbiamo dimostrato ottima condizione contro il Genoa nel secondo tempo, stiamo bene e quindi continuiamo così. Che differenza c'è nel clima tra l'Aventus e la Nazionale? Domanda un po' così, due ambienti diversi nella Nazionale una competizione ristretta, qui una competizione larga ovviamente si sta parlando della Champions League. Arriviamo con grande voglia e fame di fare una grande partita qui domani. Una cosa in cui vuoi migliorare è una che pensi di aver imparato Contiago. Da lui ho imparato tanto e continuerò a fare così, devo migliorare la fase difensiva senza staccare la spina perché non è facile rimanere concentrato ogni minuto, non è facile ma devo farlo. Quindi ottima autocritica, autoanalisi di Cambiaso, bravo. Juve di Coppa è diversa la Juve di Campionato? Noi dobbiamo giocare anche in funzione dell'avversario. Abbiamo un nostro scheletro ma le caratteristiche dell'avversario sono fondamentali. La Juve deve fare la Juve in tutte le partite. A parte che questa è una frase che andrebbe veramente incisa nella pietra. Però il discorso delle caratteristiche è un discorso molto ampio che non voglio trattare adesso perché sarebbe perdere tanto tempo e allontanarci anche dalla conferenza stampa. Se volete, se siete interessati a un contenuto simile potremmo parlarne anche in futuro. E poi chiedono a Cambiaso cos'era per te da ragazzino la Champions? E Cambiaso con tutta l'onestà nel mondo perché di questo dobbiamo parlare. Dice beh intanto non pensavo di giocarla. Sono fortunato ad essere qua. Cercherò di dare il meglio di me in questa competizione. Anche solo la musichetta e l'atmosfera comunque sono cose diverse. E qui interrompiamo le parole di Cambiaso perché ripeto ovviamente non erano tutte disponibili. Fatemi sapere magari voi nei commenti. Invertiamo un attimino la tendenza se avete visto tutta la conferenza. Quali sono state le prime considerazioni, le prime domande fatte al nostro terzino. E poi passiamo a Tiago Motta. Ed è qua che secondo me inizia il bello di questa conferenza stampa. Intanto chiedono a Tiago Motta la solita domanda introduttiva del canale Juventus TV. Che partita si aspetta? Tiago Motta la riassume, la descrive in poche parole dicendo Una bella partita aperta contro una squadra competitiva che gioca bene e fa pressione. Vogliamo competere con loro in primis per il controllo della partita. Vogliamo utilizzare la palla per attaccare bene e metterli in difficoltà. Qui c'è già una prima spolveratina con informazioni comunque note che abbiamo già commentato tante volte. Poi andiamo un po' più nel dettaglio perché oggi Tiago Motta secondo me è andato veramente delle linee guida e ha aperto degli argomenti di discussione molto interessanti. L'allenatore avversario dice che la Juve ha la possibilità di vincerla la Champions League. Cosa ne pensa Tiago Motta? Che sappiamo bene non vuole dare titoli. Dice Come sempre dico che la priorità è la partita di domani. Siamo concentrati per fare una buona prestazione. Basta andare a guardare troppo in là. E poi quante Juventus migliori sono partite sulla carta nella griglia di partenza della Champions League negli anni precedenti. Basti pensare alle Juventus che arrivavano in finale di Champions, sulla Juventus di Ronaldo. Quindi figuriamoci se possiamo oggi confrontarla a questa Juve qui che ha tutto ancora da dimostrare. È una domanda un po' sprecata così come secondo me è sprecatissima quella successiva. Gli chiedono domani in contemporanea alla Juve gioca anche Liverpool-Bologna. Ci pensa un po' ogni tanto che il Bologna è in Champions per mano sua? Che domanda è? È come chiedere alla tua fidanzata ogni tanto? Ci pensi al tuo ex? Ma dai, spero che vinca il Bologna, però sono concentrato sulla nostra partita. È già tanto che Tiago abbia dato questa risposta che secondo me è molto professionale perché avrebbe secondo me potuto tranquillamente rispondere anche in una maniera un po' più cattivella a una domanda che non c'entra assolutamente con la partita tra l'Ipsia e la Juventus. Interessante questa domanda. Dicono, si affrontano domani le due migliori difese dei top 5 campionati europei. Che partita sarà? E Tiago Motta dice, oltre al dato che è sicuramente significativo, sono due squadre che hanno queste difese ma non si mettono dietro provando a giocare sull'errore dell'avversario. E questo vuol dire tanto. Serve quindi una prestazione completa giocando bene a calcio con il pallone, usandolo con qualità ed equilibrio in avanti e poi facendo anche bene la fase difensiva. Io trovo che, intanto la domanda sia molto interessante, come dicevo, secondo me i giornalisti stanno iniziando un pochettino ad andare nella direzione di Tiago Motta. Questa credo sia di Fabiana della Valle. E dall'altra parte Tiago Motta dice una cosa molto importante che abbiamo trattato proprio nel video della mattina successiva alla vittoria dell'Iventus per 3-0 con il Genua. Il fatto che la Juve non abbia ancora mai preso gol in Serie A è un dato molto importante, tant'è che la Juve ha questo record di prime sei partite del campionato in Serie A da imbattuta, che non aveva mai avuto nella sua storia. Ma quante difese di altissimo livello ha avuto la Juventus? Basti pensare banalmente per una roba che sicuramente abbiamo vissuto un po' tutti negli ultimi anni, quando c'era Buffon e la BBC nel top, nel prime, dato che questo ormai è il termine che si utilizza su internet. E anche lì comunque si prendevano dei gol. Lasciate stare il fatto che c'è stato quel periodo di imbattibilità al secondo anno a Ligri, dove Buffon ha stabilito il record di imbattibilità in Serie A, però non si parava delle prime sei, che sono anche sempre delle partite strane, perché tra il caldo, la preparazione, il calcio mercato, poteva succedere di tutto. Quindi significa che questa Juve non è ovviamente a quei livelli lì, perché è il record di imbattibilità poi che fa la differenza, ma che la Juve sta facendo molto, molto bene. E l'altro giorno dicevamo proprio, sì, sta facendo bene, ma senza rinunciare a delle caratteristiche anche offensive. Anche se a volte ci sono stati degli 0-0, la Juventus non è mai scesa in campo semplicemente per non prendere gol. Cosa che invece hanno fatto anche squadre che sono venute a Torino, o hanno ospitato la Juve come Roma, Napoli e Empoli, con la sola volontà di non prendere gol. Lo stesso Genoa aveva fatto questa cosa, fino a quando poi la Juventus non è riuscita a sbloccare la partita. Quindi c'è tanta umiltà degli avversari nei confronti della Juve, che sono loro a dire, cacchio questa Juventus fa paura, quindi dobbiamo cercare di ostacolarla. Anche perché ha dimostrato la Juve di avere questo problema con le squadre chiuse. E poi arriveremo a parlare anche di questa cosa qua. Però Tiago Motta fa una considerazione importantissima, anche quella che ha fatto anche l'altro giorno. E la farà ancora all'interno di questa conferenza stampa. La Juve ha la miglior difesa in questo momento, ma non perché vuole solo difendere e giocare sull'errore dell'avversario, ma perché c'è un'ottima fase di non possesso palla, super, super organizzata con delle marcature preventive. E tutto questo parte da Vlaovic, ma ne parleremo. Il PSV abbiamo avuto delle buone giocate sulla parte sinistra con Cambiasu, Hildiz e Cobb Meners, mentre col Genoa Cobb Meners è partito a destra e poi è andato al centro. Vedete che stiamo iniziando un po' a entrare nei discorsi che facciamo anche noi di tattica proprio qui sul canale. Mi fa piacere, mi fa molto piacere. E Tiago Motta tanto sorrida da Nuisce e dice ma guarda, tutto è una soluzione. Anche giocare con Fagioli e Locatelli insieme a Cobb Meners stanno tutti bene per giocare. Sono giocatori forti e quando giocano insieme quindi sono ancora più forti. Cobb nella nostra squadra ha molta libertà. Può andare a sinistra o a destra. Andrà lo stesso. Sa fare il centrocampista, il terzino, l'ala. Sono giocatori con caratteristiche che possono coprire più ruoli. Questa va assolutamente ad attaccarsi a quel discorso che dicevo prima sul giocare anche sulle caratteristiche dell'avversario. Quindi non vado a completare la risposta qua. Magari lo faremo in un altro video. Turame e McKennie. Chi è più utile domani? E dato che avete vinto con il Genoa per 3-0 Prescaramanzia ci dirà la formazione anche oggi? E Tiago Motta dice non dirò la formazione. L'avevo detto, non abituatevi. Però attenzione che potrebbero giocare insieme in campo. Kefren ha ottima qualità tecnica e fisica. Così come Wes. Vedremo chi inizierà domani. Se inizieranno entrambi solo uno o nessuno. Chi gioca e chi subentra deve aiutare sempre la squadra. Devono essere decisivi anche solo per pochi minuti quando sono in campo. E qua Tiago Motta ti dà un po' il dubbio. Ma quindi lo vedremo perché non ha ancora sciolto i dubbi di formazione? Beh, vedremo nei prossimi minuti di video che no. Non è assolutamente così. E che Tiago Motta le idee ben chiare. In questa Champions, va bene, non ci sarà una Juventus di Coppa e noi campionato. Ma potete trovare un ambiente più adatto al vostro gioco? Anche questa è una domanda molto interessante. Anche questa è una domanda tattica della serie. Tradotto. Abbiamo visto che quando andate ad incontrare delle squadre più chiuse che vengono per non prendere gol, fate più fatica. In Champions magari non è così. E infatti Tiago Motta dice Ma guarda, ma non è una questione di coppa o campionato. Tutte le partite sono diverse per via dell'avversario. Una cosa è sicura. Noi non vogliamo metterci dietro a aspettare e subire il gioco dell'avversario. Ancora, l'ha risottolineato. Noi vogliamo provare a gestire il gioco. Poi ci si riuscirà a volte e altre no. Ma abbiamo dimostrato che possiamo anche ricompattarci dietro a difendere da squadra e nel recupero contraattaccare o consolidare il possesso. Una squadra oggi deve essere completa con un punto forte ma cercando di migliorare su tutto il resto di giorno in giorno. Perfetto. Perfetto. E vi dico che c'è un'altra domanda a cui ha risposto poi Tiago Motta che può far nascere un ottimo argomento di discussione e ci arriviamo tra veramente pochissimi minuti. Tenete botta e nel frattempo se non l'avete fatto lasciate un mi piace a questo video, un commento e un'iscrizione a questo canale. La doppietta Rivlaovic è importante. Quanto è importante per lui il gol? sembra fondamentale come se gli mancasse l'ossigeno quando non segna. E Tiago Motta risponde questa è la tua sensazione. Sta bene nel primo giorno. Non solo lui ma per tutti gli attaccanti è importante segnare. Ma questo non è solo il calcio. Il nostro gioco ha anche tante altre cose in fase offensiva e difensiva. Vlaovic è un ragazzo che si impegna tantissimo in allenamento e partita. È un leader positivo nel gruppo. Deve continuare a lavorare e concentrarsi solo sul giocare a calcio. Il focus è sulla partita di domani e deve essere in sintonia con i suoi compagni. Se dal punto di vista dello sviluppo palla ne abbiamo parlato tante volte nella finalizzazione o comunque sulla costruzione del gioco negli ultimi metri, Vlaovic mi sembra un attaccante completamente inadatto a quello che per adesso, per il momento, perlomeno è il gioco di Tiago Motta quindi è un attaccante poco associativo è un attaccante che preferisce attaccare la profondità. Vi devo dire che dal punto di vista difensivo invece mi sembra perfetto perché Vlaovic sul pressing o sul sacrificio sull'andare anche dietro la linea del pallone andare nella prima pressione mi sembra un attaccante molto bravo. Molto bravo. Quindi vi dico che la Juve deve adattarsi alle caratteristiche di Vlaovic quando si sviluppa il gioco ma io sulla fase difensiva non ho niente da dire a Vlaovic in queste prime partite perché Tiago Motta l'ha detto più volte è il nostro primo difensore ed è letteralmente così e credo che da quel punto di vista invece sia davvero perfetto. Attenzione perché questa secondo me è la domanda più interessante con la risposta più interessante. La Juve in campionato è la squadra che conta più sequenze su azione con almeno 10 passaggi della serie 7 la squadra che in questo momento riesce a muovere meglio la palla in maniera più efficace per arrivare dall'altra parte. E Tiago Motta dice questi sono dati che come tutti vanno verificati. Alla fine con 3, 4, 10 passaggi il nostro obiettivo è sempre quello di andare a finire nell'area avversaria e creare situazioni da gol. A volte si arriva con 3 passaggi a volte serve consolidare il possesso e dipende anche dalla squadra avversaria. Domani spero di vedere una squadra che viene a pressare con tanta intensità senza palla. Succederanno magari nel campo situazioni dove noi dovremo uscire da una buona pressione avere spazio e attaccare veloce ma abbiamo i giocatori per farlo come Amarassi sul gol di Dusan. Dobbiamo sfruttare le situazioni di gioco e leggere le situazioni come una squadra. Questa è veramente una bella domanda è una bella risposta perché a volte si tende a semplificare. No? Tiago Motta vuole la palla perché vuol fare il bel gioco. Questa è una veramente credenza popolare chiamatela così non so se si può definire effetto Mandela ma qualcosa di simile di persone che avevano identificato in Tiago Motta l'esatto opposto rispetto a quella che era la filosofia di Massimiliano Allegri e quindi un allenatore super offensivo a cui poco importava della fase difensiva ma tutte queste erano considerazioni basate sul nulla. Tiago Motta anche l'anno scorso aveva dato un grandissimo peso alla fase difensiva tant'è che il Bologna ha terminato il campionato scorso con un solo gol subito in più della Juve e gli stessi gol fatti dimenticando però che uno era la Juve e uno era il Bologna e questo era un dato di fatto. Cioè per tanti il fatto che Tiago Motta abbia sostituito Massimiliano Allegri è stato semplicemente un cambio estremo di filosofia andando ad ignorare però il fatto che per Tiago Motta non è che non è importante la fase difensiva è importantissima semplicemente l'approccio in maniera differente e l'ha spiegato anche in questa conferenza stampa più riprese per noi è fondamentale non prendere gol ma non è che andiamo a fare le barricate non è che ci mettiamo dietro col baricentro a 35-40 metri aspettando gli avversari che ci palleggiano in faccia per noi è fondamentale il possesso palla perché è anche un'arma difensiva è un'arma per consolidare il vantaggio o trovare gli spazi che ci porteranno poi a sbloccare le partite però non è fondamentale fare 50 passaggi per arrivare in porta come possono essere delle esercitazioni di partitella in campo cioè per tanti tratti la Juventus dell'anno scorso e la Juventus di quest'anno sono diverse magari in due o tre giocatori nel portiere che per Tiago Motta è fondamentale un portiere che gestisce la palla ma non sempre perché comunque abbiamo già visto in due partite per in in campionato su sei quindi non dico che sia al 50% ma siamo quasi l'intorno dei giocatori come Gatti come Bremer come Cambiaso come Locatelli ora come McKennie come Ildis come Vlaovic questi sono tutti giocatori che c'erano anche l'anno scorso che semplicemente interpretavano la partita con un altro credo perché semplicemente l'allenatore da quel punto di vista aveva un'altra filosofia ma sono giocatori che lo possono fare tant'è che la Juventus ha costruito questa statistica una statistica molto interessante ha costruito questa fase di non possesso palla che per il momento è super efficace e deve migliorare in altre robe perché è importante questa cosa perché l'altro giorno un ragazzo ieri mi pare mi ha lasciato un commento molto bello sotto un video al quale volevo rispondere all'interno di un altro video e cioè tutto molto bello ma come ha fatto Tiago Motta ad arrivare a queste considerazioni quel cambio di rotta post Genua Juve nel secondo tempo che ha permesso poi di sbloccare la partita e non ci è arrivato prima rispondo aggiungendo un'altra domanda che spesso mi fate quando faccio le analisi tattiche diciamo la Juve potrebbe migliorare facendo questo piuttosto che quell'altro e tutti tanti commenti non tutti ma tanti commenti sono ma se ci arriviamo noi com'è possibile che non ci arrivi Tiago Motta ecco io credo che il nostro problema sia dare per scontato che loro non pensino queste cose cioè tra il dire e il fare c'è in mezzo il mare è un proverbio ma è anche una cosa vera è ovvio che magari noi nella nostra testa anzi senza il magari perché questo è noi da tifosi siamo abituati a commentare a criticare a giudicare solo sulla base di quello che vediamo senza sapere cosa negli allenamenti viene provato poi è ovvio che la partita solitamente è lo specchio dell'allenamento quello che vediamo in partita è quello che deviamo preparare in settimana per questo vi ho fatto un mazzo tanto una testa tanta dicendovi da quando abbiamo iniziato è palese che la Juventus abbia cambiato approccio alla gestione della partita l'anno scorso se avevi il pallone non avevi il pallone era la stessa roba quest'anno se non avevi il pallone il mister non è contento perché vede in quello la sua filosofia principale l'anno scorso se non avevi il pallone o se avevi il pallone però facevi l'errore tecnico era un disastro perché poi dovevi recuperarla e poi rimetterti a posto è ovvio che andavi a limitare il tuo raggio d'azione o le tue potenziali azioni da gol ma non significa che Tiago Motta voglia far fare a Vlaovic Zirze Tiago Motta sa benissimo che Vlaovic deve attaccare la profondità lo dirà anche in questa conferenza stampa sapessimo che è un calciatore che deve fare quello ma da lì a farglielo fare e ragazzi c'è bisogno di tempo c'è bisogno di tempo ma già la Juve oggi è una struttura palesemente diversa da quella dell'anno scorso la gente che ancora mi viene a scrivere io non vedo niente di diverso dall'anno scorso ragazzi io non posso spiegarvi l'ovvio cioè sarebbe come spiegarvi perché l'acqua è bagnata perché devo bere se ho sete perché devo andare in bagno se ho la pipì cioè non è possibile vedere in queste prime sette partite della Juve la stessa roba che è stato l'anno scorso o questi tre anni dell'Egribis proprio perché l'approccio la filosofia da quel punto di vista nella gestione della partita è troppo diversa è troppo differente ma non significa che Tiago Motta sia l'antitesi di Allegri tutti e due credono che per arrivare ai risultati la Juventus debba avere un'ottima fase di non possesso palla poiché uno sia con un recupero più rapido uno che sia con l'attesa dietro quelle sono discorsi che riguardano le filosofie degli allenatori stop il fatto che Tiago Motta vada a sottolineare che a lui non importa arrivare in porta con tre passaggi o dieci è un grande segno di apertura mentale e questa è una grande fortuna nel mondo del calcio perché tante volte noi vediamo degli allenatori che sono talebani la mia idea di calcio è questa la mia lettura è questa se non funziona non è colpa mia mi viene in mente l'anno di Sarri tantissime volte Sarri cercava sempre solo il palleggio che poi risultava inefficace ma non andava a cambiare il famoso piano B io in Sarri non l'avevo mai visto per questo vi dico non sottovalutate dei secondi tempi così diversi come quello di Genoa con delle letture tattiche diverse non andate a estremezzarlo dicendo eh vi assicuro che non è così poi posso sbagliare indubbiamente ma vi assicuro che non è così si tratta di apertura mentale da parte dell'allenatore e il fatto che ti venga a dire tre o dieci passaggi non mi importa l'importante noi facciamo questo perché vogliamo arrivare di là e creare occasioni da gol è la cosa migliore che si può sentire in questo momento così come dire sì d'accordo la fase difensiva ma hai visto come la stiamo facendo è meraviglioso è fantastico perché se fai la fase difensiva tutti dietro e poi c'è l'errore del difensore tac ecco che va in vantaggio perché noi non la leggiamo al contrario la roba di De Winter il Geno ha accettato di stare dietro tutta la partita è ovvio che se fa un errore il difensore causa il calcio di rigore perché non la leggiamo così perché perché in questo momento vogliamo leggere al contrario questa è la risposta è lo stesso allenatore che ti dice occhio attenzione io ho dei punti fermi nel mio modo di intendere il calcio ma non significa che sia sempre così ci sono delle partite diverse perché ci sono degli avversari diversi io voglio che la mia squadra sia in grado di leggere le partite di leggere i momenti della gara di leggere quelli che sono i punti forti e deboli degli avversari e poi adattarsi di conseguenza lo sapevo ci siamo finiti dentro volevo fare un altro contenuto ma alla fine siamo arrivati qui io ho dei punti fermi quelli sono il mio credo e cioè la fase difensiva la facciamo anche palleggiando la partita la facciamo palleggiando ma poi non significa che questo funzionerà con tutte le squadre e quindi dato che noi abbiamo dei punti fermi abbiamo dei punti forti abbiamo dei punti deboli così come gli avversari cerchiamo di sfruttare questa cosa per me questa domanda è meravigliosa perdonatemi se ci ho messo 5 minuti di orologio ad analizzare questo passaggio ma secondo me è il passaggio fondamentale davvero per comprendere Tiago Motta e iniziare a farcelo anche un po' più nostro perché sono passate soltanto 7 partite ed è logico non averlo ancora assimilato al 100% con Seisao come sta dopo il primo gol è il suo momento e Tiago Motta dice è sempre il suo momento e lo sarà sempre dal primo giorno ha avuto un grande sorriso e voglia di allenarsi è molto dispiaciuto è stato molto dispiaciuto quando si è fatto male ha recuperato in fretta perché vuole allenarsi e stare in gruppo e questo è un vantaggio è un ragazzo forte disponibile che può giocare a destra e a sinistra oggi ha fatto un ottimo allenamento vediamo domani se partirà dall'inizio e poi preparatevi perché qua c'è un piccolo show finale che mi ha divertito molto gli chiedono siamo a stasera ha dei dubbi di formazione per domani? Tiago Motta dice no nessun dubbio sono sicurissimo delle mie scelte ovvio può cambiare qualcosa solo se succede qualcosa da adesso alla partita e poi Tiago Motta guarda il giornalista e gli dice perché qualcuno ha eletto la formazione? oh a me non cambia niente anche se gliela dicono e poi il giornalista gli domanda ma scusa chi me la potrebbe dire i giocatori sanno la formazione? Tiago Motta dice sì sì i ragazzi la sanno e salta sul cambiaso di fianco e gli dice oh io non la dico mi ha divertito tantissimo intanto perché si respira un clima disteso sereno come dicevo inizio video e poi perché mi piace il fatto che già il giorno prima della partita più di 24 ore prima sappiano già chi va in campo chi no perché questo aiuta tanto a concentrarsi e se un giocatore sta continuando a fare della panchina dovrebbe anche aiutarlo stimolarlo a dire cazzo io mi sono fatto sto viaggio sono arrivato qua è ovvio il mio mestiere però sto continuando a non giocare mi metto in mostra negli allenamenti che ci sono da fare e soprattutto se avrò la possibilità di subentrare all'interno di questa partita ecco che proverò a dare il meglio di me per riuscire a ritagliarmi con lo spazio e riuscire a superare quelle gerarchie anche perché io lo ripeto ancora l'ho detto anche nell'ultimo video ma oggi abbiamo dei giocatori che hanno superato delle gerarchie che non ci aspettavamo cioè McKennie e Locatelli che oggi sono dei titolari inamovibili perché oggi sono davanti ai vari Turam Douglas Lewis Fagioli ma chi se lo aspettava maggior ragione McKennie che era praticamente ceduto ma chi se lo aspettava e quindi Tiago Motta ragiona con questo costa X questo lo stipendio Y questo un cartellino Z ragiona con a me serve questo 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 tu stai meglio te ti ho visto di più in allenamento te devi ancora lavorare le tue caratteristiche non sono importanti contro questa squadra Tiago Motta non sta facendo tantissimo turnovere cioè se ragioniamo a blocchi oggi abbiamo parlato anche un pochettino di questa cosa però se ragioniamo a blocchi togliendo qualche infortunio togliendo un po' di turnovere un po' di stanchezza o determinate cose Di Gregorio è il titolare in porta per quanto per in comunque giochi quelle prima da Champions Bremer e Gatti insieme a Cambiaso e Calulu oggi sono i titolari della retroguardia Locatelli McKennie e Cobb Mainers sono i tre centrocampisti titolari ad oggi magari perché Turan rientra in fortuna non lo so e Ildis Nico e Vlaovic sono i titolari lì davanti che è un po' quasi la struttura che abbiamo visto col Genoa dove c'era faggio alle poste di Locatelli per turnover e dove in difesa abbiamo cambiato qualcosa sempre per turnover ma per il resto questi sono poi sono dell'idea che Tiago Motta a seconda delle caratteristiche dell'avversario gli andrà a spostare un pochettino con Mainers una volta a destra McKennie a sinistra poi gli inverte oppure con Mainers più avanti McKennie in mediana io sono dell'idea che oggi questa Juve non possa prescindere da due centrocampisti e quindi che debba essere schierata quanto più con un 4-2-3-1 però sappiamo che questa è una valutazione fissa che vi sto facendo e invece Tiago Motta ti dice a seconda delle caratteristiche dell'avversario se loro hanno più difficoltà a gestire un giocatore in più tra le linee piuttosto che a centrocampo lo sposto semplicemente più avanti per questo è molto interessante ve lo dico dal punto di vista della creazione dei contenuti è molto stimolante quest'anno sono molto divertito guardate il numero di analisi che stiamo facendo è sempre di più perché? perché tutte le volte c'è qualcosa in più da aggiungere ogni partita ci regala una piccola perla che dobbiamo assimilare e comprendere per cercare la prossima volta di anticipare e dire secondo me questo gioca con questa formazione perché quella squadra ha questo tipo di tendenza oggi non sono ancora in grado di farlo perché non ho ancora capito al meglio Tiago Motta ma ce lo stiamo studiando stiamo cercando di comprendere tutto quello che si può e io vi ringrazio per la fiducia e per aver ascoltato quasi 30 minuti di bla 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 lo so forse sono andato anche oltre le tematiche forse ho visto anche senza il forse ne sono consapevole ma avrò visto anche di più di quello che effettivamente ha detto Tiago Motta in questa conferenza ma questa conferenza mi ha stimolato tanto e quindi avevo necessità di condividere con voi tutte queste cose spero di non avervi annoiato fatemelo sapere qui sotto nei commenti ciao a tutti ragazzi e buona serata e buona serata Champions tra l'altro